Proteste, scontri e arresti in Kazakistan domenica 9 giugno nel voto post-Nazarbaev con le prime elezioni che possono segnare un potenziale cambiamento nella storia del paese. Almeno 500 i manifestanti fermati, secondo quanto ha dichiarato la polizia, trascinati via per i piedi da agenti e caricati sui pullman. Le presidenziali che seguono di tre mesi le dimissioni a sorpresa di Nazarbayev, capo dello Stato sin dall'89, sono considerate dall'opposizione una pura formalità per garantire continuità politica all'ex presidente. Infatti i primi exit poll danno già una preferenza che supera il 70% al delfino designato di Nazarbayev, qui intento al voto, il diplomatico 66enne Jomar Tokayev. Tokayev ha rassicurato i principali investitori del paese, come Cina, Russia e in generale l'Occidente, fra loro concorrenti, per continuare ad attrarli, viste le ricche risorse petrolifere e minerarie del paese. Gli altri sei candidati, incluso il giornalista Mirzan Kosanov, sono per lo più sconosciuti ai 12 milioni di avanti diritto al voto.